Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo tornati su Fortnite per un nuovo video Allora ragazzoli, come ben sapete sono appena uscite le sfide della settimana 5 stagione 5, andiamo a vederle tutte Oggi andiamo a fare la penultima sfida che è segui la mappa trovata nelle spiagge snob Questa è abbastanza facile di missione, molto molto easy Vi ricordo che questo video è semplicemente un tutorial, appunto dura pochissimo, è soltanto per farvi vedere la mappa Vi consiglio di fare la sfida in modalità 50 contro 50 se arrivate appunto nella sezione buona Si trova a Montagnole Maledette la stella, quindi ci vediamo in game e vi faccio vedere dov'è Eccoci ragazzoli in game, siamo abbastanza fortunati, Montagnole Maledette, zoomiamo, zoomiamo, zoomiamo Allora il castello indicato nella mappa è questo qua, alla sinistra dal mare, quindi qua In queste case, proprio qua sopra dove vi metto il marker io, si trova la stella di questa missione Ok ragazzoli, buttiamoci e tentiamo di arrivare per primi, anche se non siamo primi è uguale, non è un problema Tanto la stella possono prenderla tutti, il punto è che non so se il team avversario Gli altri ovviamente membri del team avversario hanno deciso bene di andarsi a prendere la stella Prima di noi, perché ovviamente partivano dall'altra parte, potrebbe essere problematico? Oh no, non vedo nessuno, la stella si trova proprio lì dove ho messo il marker io Eccoci qua ragazzoli, atterriamo e andiamo a raccogliere la stella e completare la missione di questa settimana Bene ragazzoli, vi ricordo che tra pochissimo uscirà un nuovo video su una nuova missione Spero che il tutorial sia stato di vostro gradimento, noi ci vediamo come al solito, a un prossimo video Mi raccomando un bel mi piace, seguitemi su tutti i social, facebook, instagram e telegram Mi raccomando su instagram emiliano.mari Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti